Occhi ai giornali, buongiorno, benvenuti all'appuntamento del mattino in diretta. Sono le 7 sul canale 17 di Fano TV, in tutta la regione Marche c'è la rassegna stampa Occhio ai giornali, una selezione delle notizie più importanti tratte dal Carlino e Corriere Adriatico, edizione di Pesaro Urbino e naturalmente siamo qui per raccontarvi, abbiamo selezionato le pagine più importanti, le commenteremo insieme, tutto questo nei prossimi 25 minuti. Ma come prevede la nostra scaletta, questo all'inizio, subito dopo la sigla, cosa c'è? Il santo del giorno. Vediamolo subito, il santo di oggi, santi anzi, sono i santi martiri di Abitina. Il sole sorgerà alle 7 e un quarto, tramonterà alle 17 e 35. Adesso diamo uno sguardo al tempo. E anche oggi, visto che ci stiamo avvicinando a questo fine settimana piuttosto interessante dal punto di vista meteorologico, ci colleghiamo con il centro funzionale della protezione civile delle Marche, dove c'è Francesco Boccanera. Buongiorno Boccanera, allora, ci può dire innanzitutto se le previsioni dei giorni scorsi sono confermate, che cosa dicono le carte meteorologiche per la giornata di oggi, domani e dopodomani? Sì, diciamo che le previsioni sono confermate. Nel corso della giornata di oggi, infatti, affluirà aria molto fredda dai quadranti nord-orientali, sarà aria di origine artico-continentale, che quindi determinerà un calo sensibile delle temperature. Dal tardo pomeriggio sulle Marche arriveranno le prime precipitazioni, arriveranno da ovest e poi nel corso della serata e nel corso della notte si estenderanno a tutto il territorio. Avremo quindi delle precipitazioni che all'inizio saranno nevose fino a quote collinari, ma nel corso della tarta serata-notte il limite delle nevicate si abbasserà ulteriormente, quindi avremo nevicate fino anche in pianura, costa compresa. La giornata di domani, sabato, sarà ancora l'insegna mattinata di un cielo prevalentemente nuvoloso, con ancora precipitazioni diffuse di debole intensità, ma che saranno nevose fino al piano. Dal pomeriggio avremo delle schiarite, il grosso della perturbazione si sposterà a sud, ma nelle Marche comunque rimarrà il rischio di qualche locale nevicata in ingresso dal mare. Si formeranno delle strutture instabili sul mar Adriatico che poi tenderanno a essere portate verso la costa. E anche la giornata di domenica sarà una giornata simile, con una nuvolosità irregolare e la possibilità ancora di qualche locale nevicata in ingresso dal mare. E qualche debole fenomeno sempre nevoso in montagna. Il tutto sarà accompagnato da dei venti forti da nord-est e condizioni anche di mare molto mosso o agitato. Le temperature, come dicevo, saranno molto basse, per cui raccomandiamo di prestare particolare attenzione al rischio gelato, soprattutto durante le ore più fredde della giornata. È stato chiarissimo. Grazie Francesco Bocanera. Appuntamento domani mattina alle 7, sempre qui per un nuovo aggiornamento. E dovremmo essere ormai dentro a questo evento che caratterizza l'inizio di questa prima decada di febbraio. Grazie e buon lavoro a tutti voi. Anche a voi, buona giornata. E adesso andiamo a leggere i giornali. Vediamo subito il Corriere Adriatico. Apertura, click day e corsa al vaccino. Dalle 14 via le prenotazioni per gli over 80. Orari, moduli, sedi, internet e call center. Ecco il Vademecum. Indice RT a quota 0,94. Chance per restare in giallo. Acquaroli dice microzone arancioni. Decideremo nella giornata di lunedì. Intanto la profilassi si farà per coloro che abitano a Pesaro, i comuni limitrofi, al Monaldi. Pesaro sceglie il centro dei nonni. La truffa invece, cui è rivasto vittima la famiglia di Castellani, il regista fanese, tradito dalla fiducia nelle persone. Anziana circuita condannato un ex poliziotto a Pesaro e poi sulle silicate opposizione compatta contro le barriere Anas. Il ristoro per l'Atari coinvolgerà altre 700 attività in crisi. In fondo, di taglio basso, rinasce l'Istituto Raffaello. A Urbino, Carlo Associati di Savona, primo nel concorso di idee. Lo studio ha già riqualificato mezzo centro di Pesaro. Per quanto riguarda invece il Carlino, edizione pesarese, la fotonotizia. E adesso divertiamoci. Final 8 di Coppa Italia per la VL Carpegna Prosciutti. Mentre variante inglese, ecco i primi casi, due contagiati riscontrati ad Urbania. Acquaroli, restiamo gialli, ma il trend marchigiano preoccupa. Vaccini agli over 80, si parte. Oggi il via alle prenotazioni, bocciata la vitrifrigo arena, la somministrazione avverranno alla celletta. Mentre circonvenzione di Capace, condannato un ex poliziotto, nei guai anche la moglie. Sesso in strada, due giovani filmati in centro affano. E sotto, invece, ladri di mobili colpiscono in due ville. Ripulite le case di professionisti. La banda in azione nella notte con un camion. E poi la celebrazione, non compleanno di Rossini. Otto giorni di eventi. Musica incontra e persino un menu speciale per i bambini delle scuole elementari. Ma c'è anche la pagina di Ancona, del resto del Cardino, da vedere perché ci dà un po' il senso di come stanno andando le cose, di come si vive questi giorni, questi vivono questi giorni, soprattutto sul fronte della pandemia. Ancona è a rischio, marche verso il giallo, ma in provincia è boom di contagi. E allora, ci sono due positivi, due positivi alla variante inglese del virus. Siamo a pagina 2 del Carlino di Pesaro. Contagiati in zona, dicono loro, non avevamo viaggiato. Sono residenti a Urbania. Barocci, primario di patologia clinica Urbino, dice la spia, si è accesa perché c'era una carica virale alta. Le conseguenze ha una maggiore infettività, ma scatenano una malattia meno severa. Simone Spagnoli, questa mattina, appunto, ha fatto qualche domanda a Barocci, il quale risponde che si sono in qualche modo accorti perché c'è una carica virale alta, mentre un altro parametro può essere quello che siano tra i nuovi contagi. Mentre non abbiamo evidenze scientifiche per rispondere su quali conseguenze può avere questa variante in una comunità. Non abbiamo, dicevo, evidenze scientifiche. Ciò che sappiamo è che tutte le varianti, in particolare questa inglese, hanno una maggiore infettività, ma scatenano una malattia meno severa. Poi, chiaramente, nel quadro generale sono 52 i casi finora riscontrati ufficialmente nelle Marche, quindi sono 52 persone che hanno questa variante cosiddetta inglese. Ricordiamo, ce ne sono altre due, africana, sudafricana o comunque brasiliana. La brasiliana è un po' la più temuta. Il virus chiaramente ha come scopo principale quello di sopravvivere da organismo ad organismo, quindi più noi ci difendiamo e più lui cerca di trovare accorgimenti. Quindi varia proprio per riuscire a convivere, a stare dentro questi organismi che nel frattempo poi noi mutiamo allo stesso modo, in qualche modo, per cercare di difenderci al meglio. Intanto acquaroli, restiamo gialli, le marche sono in allarme, il governatore sottolinea l'indice RT che è rimasto a 0,94, quindi saldo sotto l'uno. La situazione ad Ancona e la variante inglese però preoccupano per il futuro. Questo è sempre il resto del Carlino. Non basta una tendenza di qualche giorno per firmare ordinanze con restrizioni importanti. Quindi lunedì diciamo che sarà il giorno in cui la Regione deciderà se eventualmente istituire qualche zona arancione, quindi microzone arancioni, all'interno della zona più ampia che è quella gialla, cui saremo probabilmente anche la prossima settimana, stando così un po' i dati. Sul fronte invece dei contagi c'è da registrare anche quello della consigliere del Partito Democratico, Micaela Vitri, che ha un tampone positivo. Quindi lei dice ho subito le conseguenze dei problemi alla Gaudiano dove studia mio figlio. Dunque insieme alla Micaela Vitri c'è anche un consigliere del residente nel Maceratese. Sulla vaccinazione oggi, attenzione, da oggi alle 2 del pomeriggio, da oggi alle 14 è possibile prenotare il vaccino. Quindi se avete intenzione di vaccinarvi, avete più di 80 anni, ebbene c'è questa possibilità. Dalle 14 è possibile prenotare la vaccinazione anti-Covid sulla piattaforma messa a disposizione da Poste Italiane. Collegandosi al sito prenotazioni.vaccinicovid.gov.it oppure chiamando il numero verde 800-009966. Ecco, allora ve lo facciamo vedere a tutto schermo, togliamo anche l'evidenziatore, facciamo così. Ecco, se volete fare una fotografia al televisore, il numero da chiamare oppure segnatevelo 800-009966. Allora, le somministrazioni partiranno però dal 20 febbraio. Le location, i luoghi in cui verranno eseguite, hanno nel frattempo subito diverse modifiche rispetto alle indicazioni date dalla Regione Martedì in conferenza stampa. Allora, vediamoli quali sono questi punti nella Regione Marche. Lo facciamo insieme. Partiamo dalla provincia di Pesero-Urbino. Per chi vuole vaccinarsi e ha più di 80 anni, a Pesero ci sarà, come abbiamo detto, il Centro Pino Monaldi, a Fano il Centro Ortofrutticolo Codma, a Durbino il Pala Carneroli. Mentre a Macerata, all'Oratorio Chiesa Santa Madre di Dio, a Civitanova Marche il Centro Civico Anziani, a Camerino negli spazi comunali, a San Severino Marche nella Sala Italia, ad Ancona all'impianto sportivo Paolinelli, a Iesi alla bocciofila Iesina, a Senigallia il Palazzetto dello Sport, a Fabriano la palestra della scuola, a Fermo distretto di Montegranaro, ad Amandola l'ex scuola elementare, mentre ad Ascoli alla Casa della Gioventù, a San Benedetto del Tronto nel Palazzetto dello Sport. Che cosa fare? Il Corriere Adriatico a pagina 7 dedica una pagina con le domande e le risposte, e quindi può essere utile per coloro che vogliono chiarirsi un po', schiarirsi un pochettino le idee. Il Corriere questa mattina, ecco cosa c'è da sapere sulla vaccinazione e sulle prenotazioni. Oggi, come abbiamo detto, dalle 14 infatti, sarà possibile prenotare questa vaccinazione per tutti coloro che hanno più di 80 anni. C'è un sito che abbiamo già visto, un numero verde, serviranno solo per la prima dose. Dopodiché, per il richiamo, chiaramente vi siete già registrati, avete già dato i vostri dati, di conseguenza ci sarà semplicemente da attendere una convocazione e una chiamata. Tutte le informazioni, comunque 10 domande, 10 risposte sul Corriere Adriatico di oggi. A pagina 4, invece, il resto del Carlino, sempre di Pesero, pronto soccorso, un'altra notte col pienone dopo i casi di dicembre e gennaio. Anche nelle ultime 24-48 ore c'è stato un aumento degli accessi. Berselli dice, sopra la media, ma comunque teniamo. Si conferma la mancanza di un adeguato filtro della sanità territoriale, e quindi quando mancano la sanità territoriale e quella diffusa, chiaramente poi si fa tutti ricorso al pronto soccorso. Il nuovo ospedale e i milioni statali. Quattro domande per Saltamartini. Claudio Maria Maffei, ex direttore sanitario all'Asla di Fano e all'Inca di Ancona, dice che quei fondi sono a rischio. L'assessore ci dica se il Ministero è d'accordo a confermare i fondi, anche se la Regione ha cambiato idea sulla questione dell'ospedale unico. Intanto i vaccini al centro sociale della Celletta. Oggi il viale prenotazione per il lavoro 80. Qui siamo sempre su un'altra pagina del resto del Carlino. Poi la cronaca, pagina 9. Condannati a due anni un ex poliziotto e la moglie. Circonvenzione di incapace per essersi intestati la casa e svuotato il conto di una settantenne. Lui dice che siamo innocenti, volevamo solo aiutarla. Addio a Maurizio Battistelli, grazie per quello che ci hai dato. Nei giorni scorsi, dopo una breve malattia, a 73 anni, si è spento all'ospedale di Pesaro. Maurizio Battistelli lasciando il più profondo dolore. La moglie Mirella, la figlia Morena, il suo adorato nipote Nicolai, parenti e tanti conoscenti. Maurizio è una persona affettuosa, sempre sorridente. scrive il giornale, disponibile e cortese con tutti. E poi vediamo se riesco a darvi anche l'ultimo saluto. Nella chiesa di San Pietro in Calibano. Sì, questo è l'ultimo saluto, ma non c'è scritto altro. Mentre a Fano, al Vallato, la città prega per il suo vescovo. Giornata mondiale del malato, il pensiero va a Monsignor Trasarti, condivide come Gesù la situazione di tutte le persone della comunità. Ha parlato Don Francesco Pierpaoli, parroco della chiesa di San Paolo, appunto al Vallato, che ha sottolineato che la non presenza del vescovo è ancora più significativa in questo momento, perché lo vediamo condividere come Gesù la situazione di tutte le persone della nostra comunità. La pandemia ci ha ricordato che siamo tutti fragili e vulnerabili. La malattia ci ricorda che abbiamo bisogno degli altri. Riscatena in noi le domande di senso e le moltiplica a dismisura. Mentre razziate le mattonelle nel cantiere della stazione di Fano servivano al restauro dei bagni e sono state rubate insieme a del materiale elettrico e a delle attrezzature da un cantiere. E il danno si aggira intorno ai 5 mila euro. Massimo Foghetti invece ha parlato con Leandro Castellani, regista fanese molto noto, 88 anni, il quale dice sono stato tradito dalla fiducia nelle persone, mi hanno portato via il patrimonio. Castellani racconta la truffa subita da uno sprogiudicato promotore finanziario romano. Leandro Castellani dice sono incappato in una truffa bella e buona a causa della troppa fiducia che nutro nella gente. Castellani ha 88 anni e con quella amarezza interiore che prova una persona anziana rimasta vittima dei raggiri, di un faccendiere di pochi scrupoli ma con la dignità di colui che non confonde l'ingenuità con la morale commenta la triste vicenda di cui è rimasto vittima. Vittima di un consulente del quale si fidava, un consulente finanziario che praticamente gli ha sottratto un patrimonio valutabile tra i 5 e i 6 milioni di euro ovvero gran parte di tutto quanto era stato messo da parte in una vita di successi cinematografici e televisivi. Poi sulle multe a Fano dalle multe sono attesi 2 milioni e mezzo di euro all'anno la previsione nonostante il crollo nel 2020 per il Covid ecco tutte le destinazioni. Poi la pagina invece 16 del resto del Carlino è con tanto di fotografia e di fermo immagine, di fotogramma riguarda una notizia che ieri ha fatto un po' il giro della città un po' dei telefonini sesso in strada il video fa il giro della città a Fano due giovani immortalati in un momento di intimità sul cofono di un'auto in Via Nolfi quindi siamo in pieno centro storico a poche centinaia di metri da piazza 20 Settembre commenta questo video che sta girando uno psicologo se non ho letto male no, uno psichiatra anzi uno psichiatra dice se dovessi legare il fatto al lockdown direi che la situazione li ha favoriti perché per la strada adesso non gira più nessuno direi che forse l'unico eccesso vero è stato quello delle tagliatelle con un incremento dell'obesità vabbè comunque adesso a parte tutto questo c'è un racconto chiaramente che se volete potrete leggere sul giornale di questa mattina con tutte le considerazioni che si possono fare su questo fatto alza bandiera in note invece è partito il carnevale in digital edition in edizione digitale che dunque entrerà nella storia il carnevale di Fano per essere stato il primo senza sfilate in via le Gramsci la Gian Marioli la presidente dell'ente ricevuta in senato per presentare la manifestazione poi il Carlino invece pubblica sempre una fotografia dove si può vedere ecco qua questa chiazza di colore marrone che ieri mattina effettivamente è comparsa è comparsa a largo della costa davanti al porto ed è stato certamente curiosità qualcuno si è un po' preoccupato ma in realtà niente di nuovo insomma se ne vedono se ne vedono tante durante il corso dell'anno e come giustamente ricordo il professor Corrado Piccinetti che è responsabile del laboratorio di biologia Marina di Fano dice questo è un fatto assolutamente naturale sono le acque che si mescolano acque marine che determinano poi questa diversa colorazione quindi non c'è nessun non c'è nessun materiale inquinante che ha colorato di marrone questa area si accende invece la luce nei quartieri di periferia sempre da Fano il comune cerca un partner per migliorare la qualità di vita a San Lazzaro nel quartiere Vallato e a Metauriglia la presentazione in una conferenza sotto invece Ser Filippi sul casello di Fenile nessun accordo tra me e Seri il consigliere replica il capogruppo dei democratici Agnese Giacomoni poi il PD sempre da Fano il PD più in sempre più in subbuglio esplode la polemica sulla lettera spedita da futuro democratico ladri di mobili invece nelle ville siamo a Pesaro due colpi a Villa Fastigi ripulite le seconde abitazioni di un commercialista e di un avvocato la banda in azione nella notte con un camion spariti pezzi di antiquariato mentre un operaio ruba rame alla rivacold è stato denunciato è un 56enne moldavo che aveva sottratto all'azienda di Alcestre vitri quasi 250 kg di materiale poi ha chiesto scusa è morto Vittorio Sambucchi invece storico addetto all'accettazione dell'ospedale San Salvatore domani alle 10 il funerale a Cristo risorto mentre oggi alle 18 si pregherà il rosario Urbino manutenzione del verde gli alberi non cadono nonostante il vento gli ultimi interventi sulle piante vecchie o malate hanno evitato il peggio anni fa invece morì una persona colpita da un ramo tra l'altro mi pare che era proprio questo periodo qua ci fu un gran vento che appunto buttò abbatté questi alberi e fecero una vittima individuato invece il progetto per il liceo Raffaello a vincere il concorso di idee è la Marco Charlie Associati di Savona Paolini dice verso la demolizione e la ricostruzione Valmetauro Fossombrone riaperto presto il laboratorio di analisi ambulatorio cardiologico potenziato il sindaco Bonci riporta alcune novità positive dell'incontro con Romeo Magnoni dell'Asur lavori per l'ospis invece a fine marzo resta un'incognita sulla ripresa dell'attività specialistica di ortopedia andiamo invece adesso a vedere la pagina della Valle del Cesano da Marotta al via ai lavori di riqualificazione del Molo a Marotta il comune lavora al progetto di manutenzione delle scogliere il sindaco Barbieri dice cercheremo fondi europei è stata estesa anche al sottopasso delle rane la videosorveglianza sugli allagamenti intervento anche in via Togliatti a Senigallia più controlli contro gli abusivi del parcheggio incontro tra Lega e l'assessore Saltamartini le telecamere di sorveglianza sono un'opzione mentre sotto i fiammiferi di patata snena sono l'innovazione dell'anno 2020 un riconoscimento ad un'azienda senigallese il 2020 qui siamo sul Corriere Adriatico sempre da Senigallia presente il conto agli alberghi svuotati dal Covid le presenze sono a meno 39% sguardo alla prossima estate niente grandi eventi ma modalità di intrattenimento alternative intanto ci sono segnali anche di ripartenza se vogliamo lo chef Moreno Cedroni riaprirà l'11 di marzo l'annuncio prima la Madonnina del Pescatore poi il 25 il Sushi Bar a Porto Novo mentre il 1 aprile aprirà a Nicò siamo alla pagina sportiva con la VL siamo sul Corriere la VL è impegnata alle 20.45 a Milano contro Sassari un grande ritorno al ballo delle big cioè delle grandi squadre a Milano la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia la squadra è il completo tranne Massenat ma comunque questa è la partita che tutti i pesaresi attendono i biancorossi ieri si sono allenati oggi tampone rapido e poi sessione di tiro al forum e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa allora vi ricordo prima di salutarci alcuni appuntamenti della nostra programmazione allora le 8.30 quindi alle 7.30 avremo la messa da Loreto in diretta da Loreto poi alle 8.30 invece un'altra messa questa volta dalla Basilica di San Pietro sempre in diretta celebrata dal cardinale Pietro Parolin della segretaria di Stato è una messa per i 70 anni della Radio Vaticana poi questa sera dopo il telegiornale una nuova ricetta del carnevale mi hanno detto che se non ricordo male ci sarà una ricetta sulle pesche mi pare? pesche dolci esatto subito dopo invece la seconda serata dedicata agli eventi di carnevale dal Teatro della Fortuna il DJ set di Joe T. Vannelli questo dopo la ricetta quindi sempre un'altra esclusiva di Fano TV è tutto grazie per averci seguito vi rinnovo soltanto l'invito per chi non l'avesse ancora fatto ma siamo in tanti 8.000 passa reporter di strada che si stanno iscrivendo stanno chiedendo di accedere a questo gruppo visto che nei prossimi giorni sarà importante essere informati sulle condizioni delle strade e quant'altro per l'arrivo del maltempo il gelo della neve allora iscrivetevi e seguite le nostre pagine anche social di Occhio alla Notizia su Facebook mentre il gruppo è su reporter di strada e così rimarrete sempre aggiornati 24 ore su 24 noi invece ci vedremo domani mattina alle 7 con la rassegna stampa e stasera alle 20.30 con il telegiornale grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie a tutti